buongiorno e buon mercoledì 28 dicembre 2022 ci stiamo sempre più avvicinando alla fine di questo anno e gloria a dio siamo ancora vivi per poter ascoltare il messaggio della parola di dio e questo non è scontato l'ho detto altre volte ma riflettiamoci la vita è un passaggio e come dice la scrittura noi siamo un vapore che da un momento all'altro svanisce e non c'è più quindi ringraziamo il dio anche per la vita che ci ha concesso oggi e diciamo signore ora parla ai nostri cuori perché tu possa darci forza incoraggiamento benedizione aiuto sostegno e quello di cui abbiamo di bisogno nel nome di gesù te lo chiediamo amen dice così la parola di dio tommaso gli rispose signore mio e dio mio gesù gli disse perché mi hai visto tu hai creduto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto testo che possiamo trovare nel vangelo di giovanni capitolo 20 i versetti che vanno dal 28 al 29 il titolo di questa meditazione biblica è questo io so che egli è il mio dio dopo gli studi di economia seguì alcuni corsi di apologetica islamica e diventai un affez termine che significa colui che sa recitare il corano a memoria l'approfondita conoscenza di quel libro non mi impedì di pormi delle domande e di ampliare gli orizzonti della mia ricerca spirituale ecco che allora mi interessai così ad altre religioni e dopo aver letto molti testi sacri conclusi che tutti erano stati scritti da uomini ad eccezione del nuovo testamento leggendolo ne percepivo la veridicità e l'ispirazione divina e avvertivo che non era frutto della mente umana a partire da quel momento mi dichiarai cristiano senza però vivere ancora secondo i principi della fede cristiana creai creai un'azienda che divenne una delle più grandi del mio paese in seguito mi impegnai in politica ebbi successo in tutto ciò che intraprese finché un avvenimento improvviso non stravolse la mia vita mia moglie che amavo molto morì e questo evento luttuoso mi fece precipitare in una profonda depressione non intravedendo più alcuna ragione per vivere vendetti la mia società ecco che in seguito a causa di problemi di salute dovetti consultare un cardiologo che mi disse avrebbe dovuto venire prima una delle sue arterie e ostruita al momento dell'anestesia ero terrorizzato i medici mi avevano detto che le probabilità di sopravvivenza erano molto scarse mi mise così a pregare senza trovare però alcuna pace nel momento in cui stavo perdendo conoscenza chiamai gesù tre volte immediatamente mi sentì rassenerato e mi convinse che sarei sopravvissuto all'intervento l'operazione in effetti riuscì ma soprattutto da quel giorno seguì il signore gesù che fino a quel momento avevo creduto fosse soltanto un uomo ma dopo la felice conclusione di quell'esperienza compresi che egli è dio e non dio solamente ma il mio dio colui che mi ha salvato colui che mi ha liberato colui che mi ha guarito e colui che mi ha aperto le braccia chiamandomi figlio mio che meravigliosa meditazione che meravigliosa testimonianza gloria a dio questa mattina vogliamo pregare per una ragazza si chiama giusi nerea è una ragazza che ha chiesto preghiere per lei non ha specificato il motivo però noi vogliamo intercedere per lei presso il trono della grazia quindi ti invito a chiudere i tuoi occhi e a glorificare il signore insieme a me signore padre santo ancora una volta ti ringraziamo perché la tua parola ha riscaldato il mio e i nostri cuore grazie per questa parola grazie perché anche nella mia vita tu hai fatto un'opera meravigliosa mi hai salvato mi hai liberato dalla morte mi hai dato una nuova vita e oggi posso dire che anche io tu sei il mio dio il mio dio alleluia quindi gloria al tuo nome signore grazie perché sono fiducioso che tu continuerai a salvare altre anime e continuerai a trasformare le vite di quanti ti cercano e ti invocano con umiltà e con e con sottomissione signore però questa mattina vogliamo pregarti per giusi questa ragazza che ha chiesto preghiera noi la vogliamo mettere davanti al trono della tua grazia sapendo che tu sei lì dio dell'impossibile lì dio che può ogni cosa signore intervieni nella vita di questa ragazza giusi signore vieni incontro al suo bisogno e intervieni con mano potente che la tua benedizione possa scendere abbondante nella sua vita che tu la possa aiutare in quello che deve svolgere che tu la possa sostenere che tu la possa guarire se ci sia qualche malattia che tu la possa liberare se ci sia qualcosa dalla quale deve essere liberata ma in ogni caso tu conosci il suo bisogno quindi noi non vogliamo dirti come fare perché tu sei dio noi siamo solamente polvere ma la presentiamo davanti al trono della tua grazia avendo fiducia che tu stai ascoltando queste preghiere e sono fiducioso siamo fiduciosi che tu risponderai ogni grazia padre te la chiediamo in cristo gesù benedetto in eterno amen fratelli sorelle amiche e amici iddio ci benedica una buona giornata e ci vediamo domani se dio vuole al solito appuntamento pace di gesù grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.